Anica raggiunge la casa del suo ex datore di lavoro, Franco Battaggia, a bordo dell'auto dello stesso imprenditore che la va a prendere a lavoro a Treviso e poi la porta nella sua abitazione ad Arcade. Questa è la certezza, ma da quel momento della 31enne si perdono le tracce. Il 76enne racconta agli investigatori che lei aveva un appuntamento con un'altra persona. Lui aveva detto che dopo l'incontro nella sua abitazione l'aveva accompagnata in un altro punto, in un'altra località dove aveva appuntamento con una persona che lui non conosceva e per un motivo che lui non sapeva, ma di questo successivo spostamento noi non abbiamo traccia. La donna non sarebbe stata ripresa da nessuna telecamera di videosorveglianza, da nessuna parte, come se non fosse mai uscita da quella casa. Chiunque sia stato, ha spiegato Martani, gettandola in acqua, ha avuto quattro giorni di vantaggio rispetto agli inquirenti. Sarà importante comunque, ha continuato il procuratore, il risultato che ci darà l'esame delle auto che avrebbero potuto trasportare il corpo. Sul fatto che tracce contenenti il DNA di Anica possono essere ritrovate nell'abitazione dove, secondo Battaggia, la donna si recava ma solo santuariamente per fare delle pulizie, Martani ha aggiunto che questa circostanza di tipo lavorativo sarà oggetto d'indagine. Presto Battaggia sarà sentito. Nei prossimi giorni è in programma di sentire anche la versione del Battaggia, questa volta però con le garanzie difensive.